Una grande occasione speciale perché ti hanno consegnato la maglia Una bellissima maglietta numero 10 E adesso la vedremo anche la foto La maglia regnazionale, la maglia regnazionale Quindi io sono contentissimo, ho i miei colori di club Però poi quando gioco all'Italia mi dimentico tutto il tipo all'Italia Ecco qua il momento della consegna E allora chiamerei qui sul palco proprio il presidente della FIGC Carlo Tavecchio Per questo saluto, il CT Antonio Conte e il team manager Gabriele Oriali Per un saluto ufficiale prima del concerto Radio Italia, solo musica italiana è la radio ufficiale di questi grandi concerti Grazie, buonasera, vi aiuto col microfono Allora ne approfitto io presidente perché abbiamo sentito in una precedente intervista Che il presidente ascolta tanta musica italiana In particolare i classici come Gianni Morandi Per quanto riguarda Oriali è facile perché c'è anche una canzone dedicata di Liga 2 E poi vogliamo scoprire a questo punto il CT Cosa ascolta di musica italiana A me piace molto la musica italiana Quindi ascolto A parte che c'è Alex qui Sono venuto per ascoltare proprio la canzone che è stata per un'estate Un ritornello E poi mi piace molto comunque Liga 2 e Ramazzotti Ascolto molto la musica italiana Perfetto Alex, a questo punto hai dei fan qua in prima fila Vincate a ridere Questa sera vedremo se il CT sarà severo come lo vediamo normalmente a bordo campo Stasera sto tranquillo, gioco in casa Ero molto più emozionato oggi quando avevi dato la paglietta Perché ero proprio congelato Presidente Io adesso sono tranquillo Insomma sono in casa Ho la mia chitarra Questo è il mio campo di gioco Insomma quindi mi sento molto tranquillo Presidente non possiamo cominciare senza la sua consueta benedizione Diciamo così No, non posso dire che in questo momento quasi è superfluo Siamo in un clima particolare Abbiamo superato il turno Siamo pronti per fare buone cose Siamo sicuri che con la guida del nostro mister E tutti i giocatori che sono una vera squadra Arriveremo forse dove magari qualcuno si aspettava E questo è l'augurio che io faccio I miei collaboratori E speriamo che poi tutto questo vada a favore anche del sistema calcio Mani in tasca intanto ho visto L'ho vista, l'ho beccata, l'ho beccata Facci sognare Vai Antonio Bravi, 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 bravi Dai in fondo Ti fanno tutti ascoltare Siamo venuti per lei Bene E adesso allora grazie ai nostri illustri ospiti Cominciamo qui da Casa Azzurri Radio Italia, solo musica italiana Grazie a tutti Grazie a tutti